se sali sopra puoi buttare giù la scala scusa se io la butto giù mentre sono su quindi puoi camperare di quanto vuoi ecco lì aspetta 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 eccoli eccoli allora uno ha una macchina e l'altro è a piedi sono in due l'ho colpito eccomi no starving porca troia l'ho colpito adesso sta venendo qua con la g con la v3s ma in che senso l'hai capito zitto perchè in pratica sono uno sull'a uno sull'v3s e l'altro giù a piedi ah ma con la sks mi hai colpito oh no con la longhorn ah minchia eccolo ah non è morto no no non lo vedo più eccolo eccolo non l'ho visto perché lo sento fino qua mamma mia no tu te la devi vedere sta scena dopo mamma mia aspetta aspetta vi lascio passare che questo mi sciotta mamma mia amma mia qu'è mi quel è